Ok, è partita la registrazione, sono molto infogato per questa season, sono molto infogato per questa season, per tutto quello che hanno spoilerato in giro per i leak, che tu non sai adesso, non ti farò vedere il prima possibile, perché ti voglio far gustare il battle pass, ok? Dimmi quando sei in lobby. Sono in lobby. Quanto è figa, cioè è bellissima. Cioè già l'ambientazione desertica è una figata. Sì, è stupenda, che poi questa è della mappa della PvE, della mappa nuova della PvE, quindi probabilmente aggiungeranno un'altra mappa, ne stavano parlando tempo fa, ma per la season 4 a quanto pare non ci sono riusciti. Speriamo nella season 5 una nuova mappa, perché comunque due mappe su cui scegliere, che poi se guardi bene c'è la spaccatura, anche nella lobby, adesso, ci ho fatto a casa io adesso. Clicco battle pass, news, 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 giusto, giusto, le news. Allora ragazzi, come potete vedere l'ultima cosa, toying around, ve lo, diciamo, ve lo traduco velocemente. Puoi sfidare i tuoi amici con un game di golf basket con i giocattoli solamente disponibili nel battle pass. Giocattoli ragazzi, giocattoli. Giocattoli, oh mio Dio, oh mio Dio. La spaccatura dici che rimarrà proprio. Sì, ebbè, è una season mondi che collidono, quindi per forza sì, mondi che si scontrano, quindi sì, ci sarà la spaccatura. E secondo me uscirà molta roba dalla spaccatura. Ho visto un video preview che adesso andrò a cercare, spero di trovarlo il prima possibile. Ok, al mio 3, un attimo che devo bloccare la registrazione e cambiare schermata se non me la registra. Ok, eccoci qua. Dove ci sono? Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, sì, l'ho fatta partire io. Oh mio Dio, si vede l'agio che parte. Aspetta, aspetta, aspetta. Io sono a 11 secondi, dimmi quando ci sei anche tu che ripartiamo. Così abbiamo lo stesso tempo. 9, 10, 11. Ok. Il lago è sparito. Ma quello? Oh oh, è sparito. Ciao. Oh mio Dio. California. Stai immagini vero e sicuro. Sì. Il deserto della California oggi. Oh Dio. No, no, bellissimo. Vabbè. No, è la skin nel post battaglia. Con i nuovi graffiti. No. C'è il kart, è vero. È sparito, anche lui. Come eri sparito? Non ci credo. Non dirmelo. Ok. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vabbè. Gigi, l'isola... No, quella dell'isola di Pasqua. Navevi chinga. Sta succedendo. Cosa è successo? Cosa è successo? Ok, ok, ok. Un momento, un momento. L'hanno rimesso in mappa il burger. Sì, a quanto pare sì. Dobbiamo trovarlo, dobbiamo trovarlo assolutamente. Allora, passiamo al battle pass. Ah no, un momento. Nel locker. Devo prima far vedere una cosa. Schermate di caricamento nuova, ragazzi. Questa qui. È bellissima. È presente Naruto, sì. Le maschere degli Ambu. Stessa cosa. Ok, ok. Che qui, guarda, è tutta in progressione. Perché è una skin che puoi cambiare come Carbraid e Omega. Guarda che figata come è l'ultima. Ma qui parliamo, ne ha regalato una... Hanno regalato un'emoto a tutti. Sì. E io non la trovo. Devo metterla a te i preferiti assolutamente. Assolutamente. Eccola qua. Linkino. Linkino è bellissimo, sì. Ok. Battle pass adesso. Io l'ho aperto. Due skin all'inizio come l'altro. Figa, tra l'altro. Un momento che lo devo prendere. Posso prendere anche quello da 25 livelli? No, ma come al solito. Me li voglio guadagnare. Me li voglio guadagnare. Ecco qua. Ecco qua. Ci siamo. Battle pass upgraded. Beh, l'ho fatto anch'io. Tre? Dodici item sbloccati perché ovviamente avevamo anche l'altro. Oh mio Dio, sì. La vichinga femmina non è male. Lui è figo come arriva all'ultimo. Lui è figo come arriva all'ultimo. Proprio senza dubbio. E vabbè, più item sbloccati. Vai, vai, vai. La skin del sushi. Cioè, la spray paint del sushi. Stili quello, fighissimo. Veramente, veramente figo. Oh mio Dio. Ma l'ultimo è fighissimo. Sono alla seconda io. No, vabbè. Guarda all'undici. Adesso. Proprio immediatamente. E quello è il giocattolo. Ah, la palla da basket. Puoi lanciarlo. Puoi lanciare la palla da basket. Ah, vabbè. Ci sono superati, lo sapevo. Poi hanno fatto la femmina del motociclista che c'era nella scorsa season, che hanno aggiunto. Poi le scie, tipo lanterne cinesi. Ah, io stavo guardando sopra. Ah, ok. Sopra c'è poco e niente, alla fine. Ah, ok. La scia, ok. Intendi, ho capito. Aspetta un attimo. Oh, no. Mi sembrava quello del vecchio battle. C'è golf, ok. La stagione è un po' a caso. No. Livello 31. Livello 31, guarda il ballo. GG. GG. Questo è il piccone della motociclista? Sì. No, no, no. Guarda il backpack al 38. Lo sapevo che l'avrebbero fatto. Sapevo che avrebbero messo i backpack singoli. Ero sicuro. Come farci spendere soldi. Assolutamente. Ma poi è esattamente quello che è gonfiabile da mare. Sì, identico. No, ma il deltaplano al 39. Bellissimo quel vichingo. È un lama. È un lama. No, hanno messo veramente roba figa. Senza... Ma... 2 più 2 uguale 4. Ma c'è un'altra palla. Da beach volley. Da beach volley. No. Il dinosauro. Aspetta, cosa? 42. Dinosauro. 42 dinosauro? Sì. Oh. No. Spoiler. Che figo il backpack al 55. C'è una porta a puoi disegnare. Quanto è fantastico. E anche la scia glitch in the system. Sì. Nuovo ballo. C'è una skin. Ma un momento. Fancy golf ball vabbè al 59. Un'altra infatti. Vabbè. Comunque ho visto... No, non te lo dico. Non te lo dico. No, ma il ballo è fighissimo. 63? Sì. Sì. Molto, molto carino. Perché ci sono le loading screen vecchie, non capisco. Eh, sono tutta la season passata, le loading screen. Uh, la scia di cristalli di ghiaccio. Sì, bellissimo. Che poi si ghiaccia anche lui. Tutte le mani, tutto. Poi va bene. Sledgehammer non è il massimo. Un po' come quella del 71. Che assomiglia a Kyran. Kyran, esatto. Cioè, è carina ma non è così tanto bella. Deltaplano. Sì, il deltaplano. Vabbè. Oddio. È bellissimo. Oddio. Rescue poi oltretutto. Esatto. Questa la sapevo già da un paio di giorni. Non vi avevo detto niente per non spoilerare. Tu nel paper. Carta igienica. Poi questo dovrebbe essere un altro agente segreto, tipo investigatore o roba del genere. Rook, tra l'altro è il nome di un altro personaggio. Un'altra. Un'altra, dai, però. Mettete altri giochi. Ok, a sto punto. Alla fine tre giochi. Sì. Oh mio Dio. No, guarda la tomato, Ed. La loading screen. Cioè, non la refounderò mai. Neanche se ci fosse la possibilità. Però togliere la testa. Eh, vabbè, un'altra cosa senza testa. E dove l'hit marker? 95, bellissimo breakdown. Carino. E poi alla fine quella che preferisci è l'ultima. Sì, no, non ci credo, è l'ultima. Non l'avrai mai. Solo a fine season. Ragnarok si chiama. Sì. Quindi hanno fatto la partnership. Eh, beh, per forza. Magari c'era qualcosa di mini game. Che bello, che bello. Si sblocca a 500.000 esperienza. Vabbè. Ma stai scherzando. Mi sembra molto. Stai scherzando? Bellissimo, è bellissimo, non ho parole. L'ho detto, è la mia skin preferita. Chi shop userà quella da subito, vedrai. Sì. Ma io me la voglio guadagnare, assolutamente. Non ha senso shopparsela così da lui. Verso la settimana, ottava settimana. Circa. Eh, cercherò di nerdare un po' io. Perché questa è veramente bella. Questa è veramente bella. Allora. Che dici? Facciamo una partita in mappa velocemente per... Per entrare subito in game e vedere le mappe? Che skin vuoi usare? Eh, il tipo. Ok, beh, penso che sia la scelta per... No, io mi prendo la vichinga, lo sai? Sì, vai. Così siamo diversi. Eccola qua. Cioè, probabilmente oggi arriviamo al 25. Sicuro. Vediamo le challenge. In effetti non abbiamo controllato le challenge. Che figa l'ultima! Hai già guardato l'ultima? Beh, devi cliccare come Omega. Come piccone di Omega. Ah, ok. Devi sbloccare le altre cose. Deve avere 10.000 esperienze, 25.000 esperienze, 50, 100, 200. E sblocchi anche le cose. I vari outfit. Ma drift sto leggendo? E poi ci sarà la skin. Non dirmi che è quella che avevo spoilerato un po' di tempo fa. Mystery item. Quella... Eh, non lo so. Non credo. Week 1. 200.000 esperienze devi fare per la base challenge. È un botto. Sì. Mentre le sfide di oggi. Danni con l'SMLG. Trovare il lama. Già che nel video le hanno fatto... Sì, quelle sono del free. Ah. Figo, dai. Clinger. Stink bomb o grenade elimination. Mi sta piacendo questo pass battaglia. Veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Che poi io ho un paio di... Di come si chiama? Di missioni della stagione passata. Quelle giornaliere. Quindi ne ho già 5. Cioè, ne ho già 3 da completare. Sono 15 punti. Quindi già iniziamo col boss battaglia. Vai. Avantiamo in fretta, vai. Una me la son fatta stamattina. Non pensando a questa cosa. Ne avrei avuto 4. Quindi già due livelli. Però... Chi se ne frega, sinceramente. Adesso ne facciamo un bel po'. Sì, sì. A voglia. Io sono curioso di vedere la mano. Guarda! L'hanno messo lì. Pensa che io non sono ancora in caricato. L'hanno messo lì che cosa? Eh, ma vedi. Sì. Ed è enorme. È enorme. Vabbè. Hanno tolto... L'Azzy Link? No, guarda, non c'è più... Fatal? Cioè, Fatal, sì? Guarda, vicino a Grizzly. Dove c'era l'ancora? Sì. No, ma guarda sopra. Non c'è più Anarchy. Non c'è più Anarchy. No, non so che dire. No, 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 no. Anarchy. Guarda Dusty. Guarda Dusty. Scendiamo a rischi, quindi? Sì, sì, scendiamo a rischi. Guarda Dusty. Uh, è pieno di alberi. È praticamente ricoperto ormai. È un centro di ricerca abbandonato, quindi ci sta. Tutta la vegetazione. Ma... Poi non vedo altri... Qua c'è un camion, qua. Cosa è un campo da golf? Anarchy, è un campo da golf. Non ci credo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, il cinema non è riparato. No. E il film che ha vinto, eh? Non ho idea. Sto guardando. Che fail, non c'è ancora. C'è scritto White Lion. No, sono i tre titoli che c'erano già. Che fail. No, dai. Ok ragazzi, ennesimo tentativo. Forse è il quarto tentativo che facciamo per cercare di prendere subito un kart. Stiamo fisso, fisso, morendo. Però intanto livelliamo. Ho sbloccato il nuovo glider, l'ho messo. E in più ho equipaggiato questa... Questa Shalibur alla vichinga. Nonostante sia un qualcosa del medioevo, è Shalibur. Però comunque un'ascia con la vichinga ci sta. Vieni verso di me? Te la faccio. Va bene, va bene. Allora, dobbiamo scendere qui e beccare i kart. Assolutamente dobbiamo essere i primi. Io prima ero il primo. Però non c'erano i kart. Esatto. Sperando che non ci uccidano. Si è ci uccidano. Guarda quello che si è shoppato già tutto. Ma davvero? Sì, me lo sono trovato davanti con la scia... Quella delle... Delle lanterne. Oh mio Dio. Mamma mia. Io ho già aperto il paracadute. Questo... Boh, questo paracadute non è che sia al massimo. Come fai ad essere già lì davanti tu? Non lo so, ma meglio così. Sono perfetto per i garage, eh? Anch'io. Però sono un po' più indietro. Dai, dai. È che prima non c'era una garage. Esatto, non c'era niente. Sto controllando anche a destra. A destra, esatto. Ma non ne vedo. Niente? No. A destra no. Cos'era quell'esplosione? Me lo son sentito sopra. Ce n'è uno, ce n'è uno. Prendilo. Assolutamente deve essere tuo. Sto andando. L'hai investito! Vai, corri! Ma che cosa picconalo? Sto picconando, sta picconando. Non posso, non posso picconarlo. Io sono sopra. Scendi. Sfonda, sfonda le barriere, scappa. Fermo. Ma posso uscire? Non posso scendere. Con la E hanno messo. Ma così... Addio, fixer. No, non è vero. Come? Guarda che quello guida lui. Eh, lo sto picconando. Sta scappando. Ti vuole confermare? Come si scende? Sta prendendo un'arma. Eh, non mi uccide, vero? Non mi uccide? Non mi uccide? Non mi uccide? È smirato come non so che cosa. Io fugo, io fugo. Ce la fai a salire? Alpettami almeno. Si può driftare. Oh mio Dio, cos'è questo portale? Eh, vabbè, è niente. Oh mio Dio, cos'è questo portale? Cosa hai fatto? Non lo so. C'era un portale davanti a me. C'era un portale davanti a me. Dobbiamo ritornarci. Non mi interessa i cart? Dobbiamo ritornare lì, assolutamente. Ma tu dici che c'è solo lì? No. Ho sentito che c'è in giro per la mappa. Così c'era scritto nel notepatch. Però tu dici lì sei sicuro di trovare. Eh beh, l'ho visto adesso, ma lo sono visto davanti. Mi è poppato qualcosa davanti, proprio in un modo allucinante, e c'era una barriera che si spaccava. Incredibile. Dobbiamo assolutamente provare. Sì. Da quanto ho capito, si può entrare dentro queste cose. Adesso mi rilego la patch note veloce. È esattamente in questo punto qui. Ah ok, nella curva praticamente. Sì, subito dopo la curva. Cavolo, ce l'avevamo e quel cretino doveva rompere. Dai, non ci credo. Vabbè, noi andiamo al portale, quindi. O io vado a prendere il cart. No, no, andiamo al portale, che se ci entro io ci dobbiamo entrare in due. Ah, perché tu dici che ci portano a qualche parte? Lo spero, se no a cosa serve? Sì, c'è proprio... E non è una di quei flash che hai visto tu qua. No, no, è diverso. Esatto, è completamente diverso. Io ci arrivo giusto giusto? Anch'io dovrei arrivarci giusto giusto. Ma ci siamo a disposizione da qui, lo sai? Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Sì, Rift, per l'abattuglio Royale. Stavo leggendo la scritta sotto che era per un'altra cosa. Vieni, vieni, ci sono davanti. Sono appena terrato. Ce ne due. Ce ne due. Si è aperto una nuova spaccatura nel cielo adesso. Sì. Prova a premerlo. Prova a premerlo. Lo prendo? Sì, sì, io sono arrivato all'altro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non ci credo, 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 non ci credo. Altro che Hop Rocks. Ciao a tutti. Mamma mia. Mamma mia. Jumping. Sì, ma che cosa me ne frega di Jumping, sinceramente? No, è fantastico, è fantastico. No, è sparito. Sì, spariscono. Dov'è il terzo? Ah, sono a monouso. Eh beh, immaginavo, come le Hop Rocks. Cavolo. È fantastico. Non è sceso nessuno qua, abbiamo un kart. Non ci credo. Passa da fuori, vieni qui insomma, peta. E non riusciva ad entrare nel... Non sei tu. Non ci credo. L'ho detto e c'era un idiota, un idiota. È davanti a te con il cecchino, sotto di te a destra. Mamma, eccolo qua. Eccolo là. Ha chiuso tutto. Ma che cavolo ci fa anche qui? Lui era sopra di te, ovviamente gli ha spaccato la piattaforma. Troppa roba insieme. Troppa roba insieme. Non fa affare tutto in questo video. Adesso me lo edito, lo pubblico per le 15. E poi andiamo a registrare tutto il resto che c'è nella mappa. Tutto. Perché veramente così non è fattibile. Così non è fattibile. È troppo hype per troppe cose. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche i social che ci sono in descrizione. Ci vedremo in un prossimo video. Grazie, arrivederci. Ciao alla prossima.